Zambi, Zambi, firma, quello che vince il regionale, l'italiano... Ma l'indurro non è questa roba qua, faccio fuori! Non fate una roba qua, cosa fate? Al piano, cosa fate? C'è il feccuccio, c'è il rinunato, ma non è così... E se che l'hai fatto te... Se tu impari qua, la voli via! Uno come te, una volta ne ha fatto! Guarda che sfida che ha, fagli vedere! Una rinuncazza questa! Basta! Guarda e impara! Basta! 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 Finita, oh! 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 Che ragazzi, la gamba lunga, Dio, che ne! Con la gamba lì arriva l'apertura! Nonno! E stile aperto! Basta! 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 Vai Fausto! Sta già pensando o no? Ah! Ha fatto! Ha fatto! Sta già pensando, devi mettere giù il piede! Ha fatto! Vai, Rucardo, vai! Dai, capo spampi, se tu... ...i number one sono! Vai, Rucardo, vai! Vai, capo! Ehi! Ce ne sono poche di forza che non sono il number one! F***o! Ho già pensato dove mettere il piede! Come facciamo con il piede? Torna indietro, Fausto! Che fai bucchi e basta! Penso tu parti da lì! Metti la stessa e sei tu di calma! Guarda lì! Guarda lì! Guarda lì! Guarda lì! Adesso devi portarli su per te lo andiamo giù apposta! Guarda! E lo andiamo giù apposta! Fausto fermati, fermati! Basta! Così! Se è buono, deve cadere, ho capito? No Fausto! Ma perché fai quei mestieri lì? Perché dio cane? Non ti ascolta, ma che è una minchia anche questo! Guarda a quell'altro, per fare tutti l'ho fatta fuori. Non devi pensare a mettere giù i piedi, lì già pensavi di metterlo sul piede! Dai tu! Guarda che è venuto giù a posta! 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 Guardami qua! Fammi vedere! Prima! Ok, metti la seconda! Ok, metti la terza! Ok! Se non sei, se non sei, prima te! Va a rubire il tuo culo in prima! Ma non so che faccia la... Perché se non sei, prima non ce la vai! In prima non ce la vai! Eh ma devi aprire il binetto! C'è una moto che scappa via dalle mani! Va! 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 Altro scemo mi dò l'aiuto! Sì ma mi ha fatto affaventare le scomacchie! No! Va! 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 Non porti la via! Non porti la via! No! No! Accendi la! Accendi! No! Non riesco! Non riesco! Esatto! Accendi! Oh! Oh! Stai! Metti in folle! Metti in folle! Che bruci la terza! Accendi! Ah! Non riesco a accendere! In questo modo! Neanche questa è arrivata! Aspetta! 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 Stai! Tidati fuori del coglione per far passare il nodo! Vai! 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 E' tra un logo! Brava! Mi ascoltano sulle marce! Eh? Oh! Zampi! Mi ascoltano sulle marce! Qualunque marcia è, va bene! io non vengo aiutati, è che questa pesa è il primo la tirata su comunque è un motore diverso, senti che prende semplice vai vai stavo a mia moto mettendo la seconda patina e davo lo schiaffone dietro questo si crede a un maestro un maestro si crede invece è un asino un asino sei, mica un maestro sei, altro buco vai Vito è un po' di Grazie a tutti. Grazie a tutti.